Mi chiamo Chen Jie. Per facilitare, mi faccio chiamare Federica. I miei hanno una rossicceria cinese a Napoli. La specialità della nostra rossicceria sono i voti di primavera e i lavioli a vapore. La cucina cinese che si trova in Italia è diversa da quella che si trova in Cina perché è un po' italianizzata. Io sono della seconda generazione. Questa generazione parla italiano, quindi è più facile fare amicizia con gli italiani, è più facile farsi accettare. Grazie a tutti.